Dateli da mangiare, andiamo! Il nostro terapeuta è un po' insistente. Davvero? Sì, il nostro è carino. Beh, ha detto che diamo tutto per scontato e che il nostro è diventato più un lavoro che un rapporto. Spiegati. Per esempio, dice che Dave non mi dà la giusta importanza, che non si preoccupa di quello che voglio davvero. Beh, ma in fondo è fatto così, Dave. No? Già. Ma facendo così, Dave, è come se mi lanciasse addosso una bomba emotiva. Prego, continuate a guardare i pesci e gioite mentre si avvicinano. Non ti sei inventato niente, si chiama snorkeling. Oh, Dave! Dave, sto cercando di fare questo esercizio. Non potremmo riparlarne dopo con tutta calma? Forse il vostro terapeuta parla di questo. Tu dimentichi di goderti la vita. C'è tutto un mondo meraviglioso intorno a te. Ma tu sei impegnato a lamentarti dei tuoi problemi invece di goderti questi splendidi pesciolini. Marcel? Sì? Marcel, abbiamo un problema serio qui. Non è un problema, è il cerchio della vita. Il cerchio della vita sta cerchiando le nostre vite proprio adesso. State fermi, niente panico. Squalo! Cosa? Squalo! Jason! Ok, non ci divertiamo più, Marcel. Oh, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Non preoccupatevi, sono solo squali limone. Qui fa tutto parte del corso. Succede anche nella vita, succede in tutti i rapporti. Non vi attaccano se non si sentono attaccati. Marcel, adesso smettila di fare il santone e dimmi che cosa devo fare. Non fateli capire che avete paura. Allora, teniamo duro, manteniamo la calma e restiamo immobili. Che cosa c'è? Cosa? Che cosa c'è? Gesù, fermo! Ha detto niente panico! Ha detto niente panico! Sto in mezzo al sangue! Sto in mezzo al sangue! Non è un'esercitazione, Marcel. Questi sono squali veri! E' ora di prendere i fucili e sparare a questi pesci! Qui all'Eden non ci sono fucili! E' un rischio, una vita americana! Una vita non è importante più di un'altra! Che devo fare? Mia moglie e i miei amici mi lasciano morire! Si deve allontanare dal sangue, ma... Piano! Ok. Nuoti lento, lento! Piano! Lentamente, sì! Piano, piano! Non so che devo fare! Non so se nuotare oppure stare fermo! Adesso nuoti! Mi stanno torturando! Giocano come il gatto col tofu! Sparate! Nuoti lentamente! Nuoti, nuoti, nuoti! Voi salvatevi! Andate in riva! E' troppo tardi! Hanno vinto! E' solo questione di tempo! Non ci sono squali intorno a te, sei assicuro, amore! Non capisco che cosa mi sta succedendo! Mi andrebbe un gelato! Cosa? Vorrei un bel gelato, magari con delle noci!